L di Amsterdam è campione d'Europa per club per la prima volta. Lo è al termine di una partita bellissima, giocata e vinta contro Rimini in dieci riprese. Il punteggio finale 5 a 4 premia la squadra che ha meglio giocato, ma certamente Rimini non esce battuto, perlomeno esce sconfitto, ma non dominato. Andiamo per ordine. Charlie Urbanus, il manager, che tante volte ha battuto l'Italia anche da giocatore, per non parlare del softball, si laurea campione d'Europa per la prima volta con questa maglia. Una grande gioia, era la nostra prima finale e è arrivata la prima vittoria. È un momento indimenticabile. Con Corde Mansuori avevamo uno staff di lanciatori corto, abbiamo dovuto compattare tutto ma è andata bene. Abbiamo anche giocato benissimo in difesa e nel baseball difese e lanciatori vincono. Era stato Rimini a portarsi per primo in vantaggio nella parte bassa della quarta ripresa, grazie al doppio di Major che aveva spinto Retrosi a punto dalla seconda base. Al cambio campo però, Amsterdam era riuscita a segnare due punti con una battuta tutto sommato fortunosa del designato De Croes. Anche per il tecnico olandese Urbanus, questo è uno dei due momenti chiave della partita. La chiave della partita è stata la nostra battuta che ha portato il punteggio sul 3-1. Poi decisiva è stata anche la giocata del nostro interbase Dursma che ha ottenuto in terza base il secondo out del decimo inning. Alla decima ripresa si è giocato il tie-break. Rimini ha subito due punti in maniera abbastanza rocambolesca. Sulla giocata di sacrificio ancora di Croes ha sbagliato il tiro con Radini, è arrivato a casa il punto di Dreyer che aveva iniziato la ripresa in seconda, ma Rombley è stato il primo eliminato a casa base. Il vantaggio olandese è aumentato sul doppio a destra di Berkenbosch che diventerà poi l'MVP del torneo. Con due punti da recuperare, Rimini, con Zappone appena entrato in campo in seconda e Babini che aveva sostituito Noghera infortunato in prima, cerca di giocare per il bant. Non riesce, Zappone parte in rubata per la terza e il catcher olandese Gerard spara un tiro oltre il cuscino. Punto a casa e punto del pareggio in seconda. Ma sulla battuta di De Simoni, Babini cerca di raggiungere la terza ed è eliminato dal tiro di Dursma, proprio l'episodio al quale faceva riferimento Urbanos. Chiediamo quindi al manager del Rimini, Orlando Munoz, se secondo lui si è trattato di un errore nella corsa sulle basi. Quel momento lì sono palli che si stanno dalla parte sinistra tua, tu devi aspettare che passi la palli. se doveva fermare, però sono cose che in quel momento lì se voleva fare troppo per vincere la partita, però in quel momento lì sono cose che non si deve fare, se doveva fermare, però sono cose che stanno giocando, del che si pensa e non è facile, non è facile perché è un momento di tensione, voglia di vincere, ha provato ad arrivare e non era il momento di farlo, ma sono cose sbagliate, ma se si impara, si imparerà. Alla fine è esplosa la gioia degli olandesi. Per tutti gli amanti del baseball una considerazione, si è visto giocare ad altissimo livello. Urbanos è d'accordo. Sì, è stato un gran torneo. Le partite si sono risolte tutte nel finale. I Rimini a me era piaciuto nella prima partita, loro hanno giocato bene e noi benissimo. In questa gara ci ha ancora impegnato di più. Comunque tutte le partite sono state difficili e tra la sfida con Rimini e la finale abbiamo anche dovuto vincere una partita molto dura con il Neptunus. E' d'accordo anche Pepita Munoz, ma la sua è una consolazione che non gli fa superare l'amarezza del momento. Mi dispiace davvero per tutta l'Italia, per il fanatico del Rimini, per il presidente che sicuro non è rimasto male con questo colpo di perdere. Sì, si è visto che non c'è una squadra... Anche Rimini ha partito male e si è visto che non c'è una squadra olandesa o una squadra di qualche parte d'Europa che si può battere facilmente. Lamentablemente c'è questo famoso tie break che ha più... non lo so se è più concentrato in fare la cosa in quel momento lì, fare la cosa bene. Loro hanno avuto queste... abbiamo lanciato male prima, dopo si è fatto un punto con una valida, però dopo noi abbiamo provato con una ruota, si è fatto tutto, però quando uno sbaglia della cosa, in un momento opportuno, si perde la partita. Io solo devo ringraziare non solo i miei giocatori, perché se l'hanno fatto tutti, tutti i lanciatori che con tre giorni di riposo mi hanno chiesto la palla e mi hanno dimostrato che potevano. Se ho fatto una cosa che non cambia, tutto mi scuso, però sono cose del baseball e abbiamo perso una partita che in alta i break potevamo vincere o perdere facendo la cosa come dovevamo fare. Entrambe le squadre hanno dato fondo allo staff di lanciatori. Per Amsterdam ha vinto in pedana di lancio il giovane The Block. Sì, decisamente è il momento più importante di tutta la mia carriera di giocatore. Io sono nella rosa per andare sul monte in quei momenti, quando c'è pressione. Il lavoro qualcuno lo deve fare e io l'avevo già fatto in passato. Direi che stasera è andata piuttosto bene, a parte l'ottavo inning. Un ragazzo che ha una storia particolare, giovanissimo, era stato messo sotto contratto dai Seattle Mariners, ma dopo due settimane di allenamento ha deciso che il baseball degli Stati Uniti non faceva per lui. Sì, ero andato negli Stati Uniti con molte aspettative, ma la realtà è stata molto diversa. Giocare là, vivere là è molto duro e ti potrebbe confermare che così chiunque abbia giocato negli Stati Uniti. Così ho pensato di tornare in Europa e adesso spero di arrivare qui al massimo livello possibile. di Berkenbosch MVP abbiamo detto, gli altri premi individuali vanno a Nick Urbanus di Amsterdam, miglior battitore, e a Freilin Florian del San Marino, miglior lanciatore. La chiusura la lasciamo a Orlando Munoz. Ci sono ancora della Coppa, del campionato, spero che i ragazzi perdendo questa Coppa non tirino la cabeza por terra, sino diventino ancora più in alto, perché giocare con l'Aster, giocare contro Bologna e vincere non era facile. Abbiamo perso, non posso dire sul serio il cuore, ma adesso lamento questa perdita perché vedevo la partita per me nell'ottavo inning, la sentivo, la bevo e l'ho perso così facile. e l'ho perso e l'ho perso Grazie a tutti.